Quello che apparentemente potrebbe sembrare un'operazione scontata rischia di diventare un percorso ad ostacoli. L'invocato addio di Enzo De Vito, magari a fine stagione a scadenza di contratto, potrebbe creare non pochi scossoni all'interno di una direzione tecnica di fatto scelta da lui e organizzata per un percorso di un anno e mezzo, almeno. Per sintetizzare, se il DS va via e il tecnico resta, bisognerà trovare un sostituto di De Vito che di fatto ne sposi le idee. Complicato. Nei fatti il terreno è già diventato scivoloso a gennaio, quando, paradossalmente, invece di trovare giovamento nel mercato invernale, si è andati a sbattere in un mese assolutamente da dimenticare, in un febbraio carico di fuoco. Il tutto mentre fino a fine dicembre la squadra aveva grosso modo retto agli urti. Il rischio grosso è che si resetti nuovamente tutto e che si riparta ancora da zero e farlo a giugno, replicando di fatto quel che è accaduto l'anno scorso, rischia di essere un vero e proprio bagno di sangue. Improbabile l'avvicendamento del DS già da ora. A marzo sarebbe del tutto simbolico, considerando che il mercato è chiuso e che i giochi sono sostanzialmente fatti. Sarebbe certamente un segnale legato senza dubbio anche alle forti pressioni esterne. Insomma, D'Agostino avrà molto su cui riflettere. In primis decidendo sul futuro di De Vito. In secondo luogo, trovando un sostituto adatto al percorso intrapreso, che, piaccia o non piaccia, è già cominciato e che, a questo punto, possa garantirne continuità. L'Avellino in questo momento ha bisogno di certezze. Navigare ancora in questo mare di instabilità non giova al futuro, ma costringe tutti a navigare a vista, facendo attenzione di metro in metro anche al pericolo degli iceberg.